Dal 9 all'11 maggio torna Sicilian Primer a Cefalù, quest'anno con un doppio appuntamento, un doppio compleanno. Sì, quest'anno festeggeremo i 25 anni dell'Associazione, i 25 anni di vita dell'Associazione e i 20 anni di Sicilian Primer. Ricorderemo quanto è importante fare sistema perché Assovini è stata fondata dai tre soci storici, ovvero Digo Planeta, Lucio Tasca e Giacomo Rallo. Coinvolsero allora in tutto otto aziende, oggi siamo diventate cento aziende. Quindi ci racconteremo quello che è stato il nostro passato, quello che è il nostro presente, ma soprattutto quello che sarà il futuro, perché si parlerà anche delle nuove generazioni, di questa next generation, di questi giovani imprenditori che si affacciano adesso nel mondo del lavoro e che nell'associazionismo hanno trovato anche uno spunto importante di crescita. I valori che porta avanti Assovini sono valori culturali, sono valori legati alla qualità. Si parla tanto e si parlerà di no turismo, si parlerà di sostenibilità e cambiamenti climatici. Questo perché il valore del vino non è soltanto un valore di carattere economico, ma anche un valore legato alla ricerca, legato alla valorizzazione dei territori, legato anche alla promozione. Si parli della Sicilia e se ne parli bene, è la nostra mission Sicilia Amprimer, è nata come evento che doveva raccontare i vini Amprimer, quindi i vini della vendemmia appena conclusa. Ma è anche un modo per fare conoscere come il vino siciliano si sta evolvendo. La Sicilia è sempre un continente vitivinicolo. La Sicilia non è una regione piatta, ma è fatta di microclima, è fatta di altitudine, è fatta anche di produttori e di filosofie completamente diverse. E questo in qualche modo la rendono unica ed è quello che Assovini attraverso la sua attività in questi 25 anni ha cercato di fare.